Dopo vent'anni dall'ultima volta, Piacenza torna a ospitare un Presidente della Repubblica. Nel 2004 fu Carlo Azzelio Ciampi, oggi è il turno di Sergio Mattarella. Al centro i giovani, l'arte e la cultura. Il Capo dello Stato atterrerà in elicottero al Daturi. L'arrivo è previsto intorno alle 17.30. Il primo appuntamento istituzionale sarà il saluto con la Sindaca Cate Tarasconi e la Presidente della Regione Facente Funzione, Irene Priolo. Poi grande attesa per l'incontro con gli studenti delle scuole piacentine che hanno partecipato ai laboratori promossi dal Festival del Pensare Contemporaneo. Il Presidente, infine, si recherà al Teatro Municipale, dove alle 18.30 assisterà al concerto con protagonisti Amy Stewart e Alessandro IV per celebrare insieme alla comunità piacentina i 220 anni del Teatro Municipale. Verso le 19.30 Mattarella farà rientro a Roma, nel mezzo grande emozione e affetto per una giornata speciale che vi racconteremo in diretta sul canale 76 di Tele Libertà e sul sito liberta.it. Il gruppo Libertà dalle 17.30 seguirà infatti l'arrivo del Presidente, l'incontro con i giovani al Palazzo Gotico e l'approdo al Teatro Municipale. Non solo l'evento, ma anche l'attesa. Già dalle prime ore di questa mattina, infatti, in edicola con il Quotidiano, è presente uno speciale di 24 pagine dedicato interamente alla visita del Capo dello Stato. L'inserto gratuito di Libertà prevede numerosi articoli, interviste e ricordi per un saluto corale del nostro territorio al Presidente della Repubblica. Grande gioia, come dicevamo, ma anche grande attenzione allo svolgimento in sicurezza dell'intera visita. Dalle 15 di oggi, l'intera area di Piazza Sant'Antonino e di Via Giordani sarà chiusa al traffico veicolare e sarà transitabile solo da pedoni e ciclisti. Verrà costituita un'isola transennata e i varchi pedonali di accesso al teatro saranno tre, all'angolo con Via Sant'Antonino, in Via Giordani e in Via Verdi, dove già dalle 9 di stamattina è istituito il divieto di sosta fino alla fine della manifestazione. Dalle ore 15 sarà sospesa anche la fermata del trasporto pubblico urbano in Piazza Sant'Antonino, così come le linee degli autobus in attraversamento su Piazza Cavalli. Tutte le limitazioni sono consultabili sul sito liberta.it Piacenza si prepara ad accogliere il Presidente. Noi non vediamo l'ora di raccontarvi questa bella giornata di festa.